oh giovani amici di facebook l'estate sta arrivando e quindi cominciamo a parlare anche di accessori per l'estate quindi occhiali da sole in particolare in questo video vi parlo di questi occhiali Oukers sono abbastanza nuovi io non li conoscevo prima di un paio di mesi fa ci ha contattato la Oukers e ci ha detto volete ricevere i nostri occhiali in redazione e ovviamente non potevo dire di no e quindi me li sono fatti spedire e li ho provati sono molto fighi sono fatti molto bene e soprattutto non costano un cazzo costano veramente pochissimo sono tra i 25 e i 30 euro in base al modello veramente pochissimo e mi aspettavo che fossero insomma una roba abbastanza cheap visto il costo cioè fondamentalmente costano un terzo barra un quarto di occhiali molto simili di marche più famose vi faccio vedere però come arrivano e quanto sono in realtà veramente super fighissimi questo è il packaging che vi arriva ne ho vari qui ne ho vari modelli come vi dicevo ce li hanno mandati per tutta la redazione per cui li vedrete addosso ai nostri redattori nelle varie anteprime dentro la scatola che assomiglia un po' a quella dell'iphone per intenderci comunque cartoncino rigido veramente fatto bene gli occhiali arrivano dentro a un bel sacchettino che diventa anche custodia perché è in stoffa veramente super curato guardate che figata dentro c'è l'occhiale vero e proprio addirittura piccole finezze tipo 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 questa qui no con con il marchio okers ci sono modelli veramente molto diversi tra loro si ispirano tutti quanti un po ai wayfarer di raiban ovviamente invece mi pare veramente evidente però ci sono tantissimi colori diversi dentro la scatola non finisce qui ci sono diversi adesivi e addirittura vi regalano per fare un po di promotion quindi hashtag join the revolution piuttosto che il l'adesivo con il logo okers vi faccio vedere anche questi altri però che ho visto prima sono ancora più fighi questi qui okers classic è un altro modello la scatola è nera invece che bianca guardate che belli dentro la custodia è tutta stampata okers 1978 che è anche il mio anno di nascita gli occhiali sono molto belli secondo me questi sono quelli con la parte inferiore in metallo sono completamente neri ci sono ripeto in altri modelli e dentro ci sono altri adesivi in questo caso in stile racing ci sono veramente svariati 3 o 4 più le solite mini istruzioni barra garanzia per questo modello che si rifà appunto a i wayfarer di raiban la misura è unica sono lenti da 54 mm sono molto grandi quindi io la faccia gigantesca per cui mi stanno veramente a pelo probabilmente però se avete la faccia più piccola ricordatevi che questi qua questo modello qui a dimensione fissa a 54 mm sono abbastanza grandi questi altri invece classic con il fondo per intenderci in metallo hanno le lenti leggermente più piccole credo un 52 mm per cui come vedete a me stanno un po più piccoli probabilmente invece vanno benissimo per chi ha la faccia un po più piccola e non il faccione come me tutto qua video super veloce vi ricordo solamente che trovate questi occhiali okers nel link qui sotto e oltretutto mega figata visto la collaborazione con la redazione di lega nerd okers ha dato un codice sconto esclusivo che vi permette addirittura di avere il 30 per cento di sconto su gli acquisti che che farete sul sito mi rendo conto che sembra un po una marchetta però veramente gli occhiali sono super fighi e se usate lo sconto lega 30 se lo scrivete prima di comprare gli occhiali in fase di diciamo pagamento otterrete un 30 per cento in più quindi occhiali che già costavano 30 euro veramente molto poco diventano da 20 euro per cui assolutamente in cauto acquisto istantaneo se vi servivano degli occhiali per l'estate ve li straconsiglio perché appunto sono sono belli sono sono ben fatti le lenti sono polarizzate quindi di discreta qualità e soprattutto sono mega low cost anche grazie appunto al nostro codice sconto del 30 per cento ripeto scrivete lega 30 il numero quando li comprate e otterrete un 30 per cento aggiuntivo si piacciono i miei video di unboxing e di mini recensioni di accessori e altre minchiate fate like fate share e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi